Poi la Iole spostò lo sguardo più in là, sotto e sopra di lei, e vide che in tutto il ghiaione vi erano sparsi fiori gialli di Pissacani, fiori di Tarassaco, prima e dopo la frontiera, proprio a significare che, a differenza degli uomini, essi non conoscevano confini. Grazie a tutti.